Quando era piccolo mio nonno, lui mi raccontava che Stradella era la patria della Fisarmonica. Forse andando avanti col tempo, leggere relazioni, questo è andato un po' a calare, però comunque adesso sono rimaste poche ditte a Stradella, di cui noi, che comunque siamo dei ragazzi giovani, quindi potremmo garantire un futuro anche ai ragazzini che stanno imparando. Prima con la Fisarmonica comunque c'era tanto lavoro a Stradella, invece molti adesso devono andare a cercare lavoro altrove, o a Pavia, chi deve viaggiare continuamente con i treni, a Milano, invece io comunque lavorando qua, la comodità anche di essere vicino a casa. Se tornasse come una volta ci sarebbe più lavoro per anche ragazzi giovani, se ci fosse anche una scuola per incentivare i giovani ad imparare questo mestiere, ci sarebbe un futuro comunque garantito secondo me. Quando sono arrivata qua a lavorare, non conoscendo il mestiere, non sapevo bene cosa dovevo fare, però avevo buona manualità, quindi pian piano ho imparato, grazie alla signora Nicoletta che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa. Lei ha lavorato una vita alla ditta Crosio e quindi mi ha insegnato il mestiere, come mi inchiodare, poi mi ha trasmesso comunque una grande passione che mi porto dietro ancora oggi. La cosa che mi spaventava di più quando ho iniziato a lavorare qui era incerare. Con una pipetta e un padellino pieno di cera dovevo far passare la cera in mezzo alle due voci. C'era uno spessore, c'è tuttora uno spessore di pena fisarmonica, fisarmonica di un centimetro o neanche, mezzo centimetro. Dovevi calibrare la cera nella pipetta per non far sì che usciva fuori o che ne veniva messa poca perché alla fine dovevi essere anche veloce perché sennò si asciugava subito. Ci ha voluto tempo per imparare, perché comunque sono tante voci in una fisarmonica, devi controllare anche che non ti casca la cera dentro, che non ti prende la pelle. Era una delle cose che mi spaventava più fare, sinceramente. Poi a volte è capitato anche che bisogna intingere leggermente la piastrina nella cera, così rimane attaccata alla soniera. E una volta mi è scivolata dentro l'intero piastrina e ci sono messi tutti a ridere perché non riuscivo più a tirarla fuori, anche perché scottava con la cera bollente. Alla fine in qualche modo l'abbiamo tirata fuori, però sono cose del percorso che si imparano col tempo e si impara sempre a migliorare. Parti da zero, da una cassa di legno. Quando arriva la fine, che hai questa fisarmonica finita, bella, alla fine dici ci ho messo l'impegno, ci ho messo tante ore, però alla fine c'è questa, uno strumento dove una persona comunque sarà felice di suonarla e l'ho fatto io. Quindi mi piace perché mi dà soddisfazioni. e l'ho fatto io.